Buongiorno a tutti amici di GameSurf, come potete vedere oggi è arrivato in redazione un bastimento carico di prodotti Razer e prima di adentrarci nel meandri della recensione che troverete tra qualche giorno nelle nostre pagine vi voglio far vedere esattamente le caratteristiche principali comunque di questi tre prodotti che sono arrivati iniziamo subito dal Detader, nella nuova versione Chroma, probabilmente il miglior mouse mai fatto per quanto riguarda i mouse da gioco prendo la responsabilità di quello che dico, che si presenta qui con una nuova veste, un nuovo sensore eutico fino a 16.000 DPI e un nuovo switch meccanico che garantisce una precisione del 99,4% quindi praticamente non perderete un colpo a meno che non siate voi scarsi e questa però non è colpa di Razer, ci sono 5 tasti programmabili quindi potete utilizzarli per qualsiasi tipo di gioco e potrete cambiare i DPI on-fly, quindi potete cambiarli al volo per adattarli al meglio alle varie situazioni di gioco in cui vi troverete di fronte. Per abbinare al meglio questo nuovo piccolo giugno della tecnologia Razer ha prodotto questo nuovo tappetino per il mouse, il tappetino ovviamente è un eufemismo, è un tappetone ovvero il Razer Gigantus, vi garantisce un ottimo grip grazie a questa superficie gommata che praticamente non si muoverà di un millimetro anche durante le vostre sessioni di gioco più infuocate come vedete è una superficie molto ampia con una superficie gommata che vi garantisce comunque sempre un'ottima presa anche del vostro mouse e il software di gestione della Razer vi garantirà anche di poterlo accoppiare ai mouse di vostro possesso, quindi potete avere sempre delle prestazioni al top con tutto quello che riguarda Razer chiudiamo con le nuove cuffie che sono appena uscite, le Kraken Pro, la versione 2 delle Kraken Pro che sono delle cuffie sostanzialmente pensate ai prefici con jack da 3,5 mm per il vostro computer ma che possono essere anche utilizzate per console perché qui troverete un jack sempre da 3,5 mm che potrà essere inserito nei vostri pad sia per Xbox One che per PS4 quindi è una proposta veramente ottima che si adatta a tutto troverete qui il vostro microfono che può essere comunque adattato al meglio alle vostre esigenze è un microfono retrattile e padiglioni da 50 mm che possono ovviamente garantirvi l'inversione totale nei vostri giochi preferiti questo per il momento è tutto ragazzi, noi lo testeremo con cura nel corso di queste settimane e mi auguro già la prossima settimana potrete trovare le recensioni speciali all'interno delle nostre pagine quindi io vi ringrazio per essere stati qui con noi vi rimando la prossima settimana sulle pagine di GameSurf ciao a tutti